In provincia di Novara una caccia alla volpe virtuale messa in scena per una buona causa. Uno spettacolo d'altri tempi a cavallo vestiti di tutto punto immersi nella campagna più selvaggia. Non siamo nell'Inghilterra di fine Settecento ma in provincia di Novara dove è andata in scena una manifestazione unica nel suo genere. Una caccia alla volpe rigorosamente simulata. Grazie a questa caccia noi riusciamo a raccogliere fondi per i progetti sociali che il Sacro Militare Ordine Costantiano di San Giorgio realizza nei nostri territori e non solo. È una caccia alla volpe simulata quindi non ci sarà l'uccisione di nessun lavoro. Però tutta la liturgia del lavoro dei cani, la ricerca, i cavalli che galoppano, le regole da rispettare, i costumi dei calciatori. Una giornata per stare insieme fra sport, tradizione e solidarietà. Oggi come allora i partecipanti hanno messo alla prova la propria abilità e tra di loro anche un cavaliere d'eccezione, Alex Belli. Abbiamo fatto anche dei saltini, eh Flexor, abbiamo fatto dei saltini? Eh, sei stato bravo? Bravo, bravo. Lontani anni luce dalla giungla urbana, un'esperienza a stretto contatto con la natura, un salto indietro nel tempo, come in un quadro più vero che mai. Era l'ultimo servizio, studio aperto torna domani alle 12.25. Grazie per averci seguito a tutti, una buona serata. Grazie.